La nostra musica, il nostro track, vorrei invitare su questo palco tutti i partecipanti che sono arrivati dal Kazakistan per partecipare al nostro festival concorso. Oltre Fashion Kids Show, invito qua ISD Energy Dance, Gultana Jurkavaeva, Ensemble Tumar, Ensemble SGB, Scuola d'Arte numero 2, Città di Almaty, Collegio Musicale di Turpiniceva, Pier Giorgio Maniani, tutti, tutti aspetto qua. Signori, aiutiamoli a salire sul palco con pochi applausi, non sento i vostri mani, salutiamo tutti i nostri artisti. Ecco, questi sono i nostri partecipanti dal Kazakistan. Li vogliamo applaudire un po', li vogliamo dire grazie per la strada di stasera. Sono loro. Io vorrei far salire su questo palco anche la nostra giuria. Invito su questo palco maestro Stefano Malferari. Maestro Stefano Malferari. Prossimo su questo palco si invita maestro Augusto Celata. Invito inoltre su questo palco maestro Alfonso Di Filippis. Vi invito su questo palco maestro Alfonso Di Filippi. Grazie alla nostra giuria, grazie ai nostri ragazzi. Non hai giurati, se mi permettevi, vi vorrei da questo lancio che dobbiamo cominciare la cerimonia di premiazione. Ok, siamo quasi pronti. Intanto che ci prepariamo per la cerimonia di premiazione vi vorrei spiegare che tutti i ragazzi, tutti i partecipanti vengono premiati con diplomi. In base al punteggio che hanno messo i nostri giurati alla media colpulata, li viene assegnato partecipante, terzo livello, secondo livello o primo livello di esibizione. Ovviamente loro in base a queste valutazioni devono capire quanto devono ancora studiare e quanto devono migliorare. Poi abbiamo un unico premio trasversale su tutti i nomination, non importa dove avevano partecipato, che si chiama Grand Prix. Quest'anno con la volontà del nostro Consulio Onorario del Casal, che è stato il dottor Giovanni Pomponi, è stato realizzato il Petro di Murano, quindi diventa anche un premio di prestigio. Vediamo anche chi di queste ragazze riceverà questo Grand Prix. Io intanto comincio la premiazione dei nostri partecipanti. Come primo premiavo. Secondo livello, parte tripi alla kebelli. ından Vakizzava Janaya. Grazie a tutti. Secondo premio, Nomination Instrumental Arte, Karak Mahmed. Secondo premio, Muhammad Ali. Secondo premio, Fokbaeva Malika. Secondo premio, Faiman Ali. Secondo premio, Faiografic ensemble, Kisjibeng, Classical Dance. Laureate Secondo premio, Nomination Folk Dance, Folk Ensemble Tumar. Lauriate di primo livello, награждаio lauriatov I premio. Nomination Instrumental Arte, primo livello, Pier Giorgio Magliani. Lauriate di primo livello, Nomination in Art, Gultana Jurkabaeva. Lauriate di primo livello, Nomination in Art, Gultana Jurkabaeva. Lauriate di primo livello, instrumental Arte, Gultana Jurkabaeva. submission is nothing for free Tomovich Nпри. Lauriati di primo livello, Pamase Lozcza. Di primo livello, V!!!!! Lauriate di primo livello,iance aelfora Gilles. Lauriate di primo livello, aamba Jurkabaeva. Sojä carega la variety, Giglio più odinello il einfachso che interno. Lauriate di primo livello, a peaksar colpo di piccolo serratita. Grazie a tutti. 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 Grazie.